Ciao! Che buono so! Hallò! Siamo i bambini della Carmen Pisacane Venite il 15 di dicembre A dormire là! Ci dovremo scoprire tutti quanti i segreti del nostro quartiere Ci sono 8 attappe selezionate in base a 4 aree tematiche Gusto, street art, storia e paesaggio e architettura Questo alle mie spalle è il mausone di San Celena Questa opera è stata realizzata tutta a pennello Da un giovane ragazzo venuto dalla Francia Siamo entrati dentro il mercato centrale Un posto apparentemente normale 15 dicembre! Ciao!